Questa è una trappola per cimici, feromone, che le avvicina, dopodiché vengono intrappolate, rimangono appiccicate al foglio di colla e non si riescono più a muovere. Questo in la collezione di queste cimici nel giro di 24 ore? Meno di 24 ore. Questo è due settimane dopo, da il primo lato e questo è il lato opposto, ok? Ma che cos'è Paolo? È come un odore che viene sentito dalla cimice e dura per 12 settimane, queste sono da cambiare. Ecco, adesso qua l'abbiamo lasciato giusto per farvi vedere il risultato due settimane dopo di cosa succede. Allora, vi dicevo che non finisce qua, ok? Quattro giorni dopo che abbiamo installato questa placca qua, Paolo ha installato, cioè ragazzi qua, io non so, qua c'è la collezione degli insetti. Guardate, io vi faccio vedere da vicino, perché grazie a questa struttura qua, cioè qua è una struttura di ferro che si è creato Paolo, non so se l'avrà trovata da qualche parte. Praticamente ha creato, non voglio dire la parola, ma questo è, io non lo so, ma guardate c'è tutta la tipologia di cimice asiatica. Bianca, nera, marrone, striata, blu, cioè mi sembra, guardate di qua, c'è la collezione, c'è la collezione di cimici, io qua adesso non ce ne sono più, non stanno sorvolando. Se vi ricordate settimana a scuola, due settimane fa, quando ho fatto il primo video, ero invaso da cimici che mi giravano attorno. Adesso io non so se, adesso fa freddo, ok, fa un po' più freddo rispetto a due settimane fa, quindi in questo momento ci saranno, e poi anche sera, cioè sono le 18, 17 di ottobre. Sono veramente rimasto scioccato, perché questo, attenzione, è un lato, e questo è l'altro lato. Il feromone probabilmente, ovviamente va avanti per altre, beh, ovviamente due settimane va avanti per altre dieci settimane, quindi quello che dovrete fare è semplicemente sostituire questi pezzi di colla, questi non possono più raccogliere cimici. Questo video, in sostanza, è un po' una sorta di farvi scoprire qualcosa che io ho scoperto, no? Quindi se tu sei una persona che ha una sua casa e sei infestato da cimici, beh, questa qua potrebbe essere un rimedio interessante, che non ti fa più schiacciarle con la finestra, con i piedi, dover scoparle via con la scopa, pulire il pavimento, insomma tutto il fastidio che danno queste cimici.